Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla tren Napoli-Salerno a partire dalle ore 22 di lunedì 11 febbraio e sino alle ore 6 del giorno successivo per consentirei lo svolgimento dei lavori di manutenzione sul viadotto Sant'Eremita troverete chiuso al traffico il tratto compreso tra le uscite Salerno-Centro e Cava dei Tirreni in direzione del capoluogo Partenopeo. Sino a lunedì 31 marzo per lavori invece di manutenzione sui viadotti Ballonalto e Calore sulla 16 Napoli-Canosa si procede a carreggiata ridotta tra Baiano ed Avellino Ovest in tutte e due le direzioni e nel tratto compreso tra gli svincoli Avellino-Est e Grotta Minarda ancora in entrambi i sensi di percorrenza. Da qui ci spostiamo sulla statale 18 Tirrena Inferiore dove domani lunedì 11 febbraio dalle 7.30 alle 18 ancora per lavori di manutenzione troverete il senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel tratto compreso tra le località Cioffi e Capaccio. Ancora carreggiata ridotta invece sino al prossimo 31 maggio lavori di lungo periodo sul raccordo di Benevento nel tratto compreso tra le località San Giorgio del Sagno e Castello del Lago in direzione dell'allacciamento con la 16 Napoli-Canosa. Infine sulla tangenziale di Salerno sino alle ore 6 di sabato 30 marzo ancora per lavori di manutenzione si procede a carreggiata ridotta tra gli svincoli Fratte e Via Irno in direzione Ponte Cagnano. È tutto dalla redazione Muoversi in Campania un saluto da Gigi Gallo.